Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genit DNA Continuiamo le avventure con il nostro amico Franklin Con la mia bella pettinatura di cine Ora raggiungiamo il puntino di missione M Con la mia motazza Che ho bellamente rubato Facciamo un po' i fighi Con la mia motazza Quindi andiamo a vedere Di impostare il GPS Bene, ora facciamo un po' i figoni con il nostro motore Cerchiamo di non uccidersi Eh, uccidermi Wow, wow, uccidermi Guarda com'è in penno mamma Ora raggiungiamo il nostro Come ben tutti Vi siete accorti ieri E' finalmente Stato attivato l'online Porca vacca L'online di GTA Che però io purtroppo fino a questo weekend non potrò provare Bene, 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 bene Sono stato un po' impegnato in questi giorni Quindi sto editando questo video un po' dopo Guardate come in penno Yeah Mi sento realizzato Dov'è il nostro... Eccoci qua nella pillona di Michael Parcheggiamo il mio motore Porca troia Che cazzo fa quello? Si sta scopando tua moglie Ah ah ah, sfigato Hei, you Stop it Come hello, mo? From my way Michael, calm down What the fuck is going on? Nothing happened, it was a misunderstandings She has fucked up bullshit my bed And if you bullshit It wasn't like that You in? Fuck it, I'm in this role Let's take this motherfucker Just don't kill him Troia Dobbiamo fermare il bastardo Andiamo Oddio, oddio Oddio, ho tirato sotto la mia moto Ma porca puttana merda No, la mia moto, me la sono uccisa Siediamo lo stronzo Non potete prendere un altro veicolo Questo veicolo qui non è proprio più console Per fare gli inseguimenti Zio perana Sì che è entrato Ciao amico Dove è andato il pezzo di merda? Eccolo là, il pezzo di merda Sì no, beh, dovevi uscire per forza adesso Pezzo di stronzo Sembra quando tu hai fretta di andare da qualche parte In realtà Ti trovi davanti a tutti i deficienti Semna fuori rossi Figa sta cosa, mi piace Mi piace Ok, questo è il turno Ehi Ti senti calmo Ok, ops Certo Siamo un cazzo di due Ci senti calmo Ok, potrebbe essere dovuto andare qui e praticare la mia mano... ... sul tuo viso! Voi, tua energia negativa sta veramente spostando a me soffro! Hohoho, spero che sia, bud! Ci siamo insieme, mani! Tu vieni a me casa, prendi le mie filo, e scopri la mia donna! Mi f***e? Io mi f***e prenderla la mano e dire che era che non è bello, bud! Mi f***e, veramente! Quanto magnanimale! a mo son cazzi tua, a mo mo, a mo son cazzi tua, ho legato il pick up al tralicio, a mo ci facciamo una bella sgasotata, fai bella, uh, perché l'architetto che ha inventato sta casa del cazzo? non, non, oh dios ooooh 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 andiamo! ok scusate per questo taglio ma mi hanno chiamato per la pappa e ho dovuto panculo oh dio wow scusate scusate Pick up, drift Oh cazzo Che puttana Oh cazzo, ma che minchia Oh merda, oh merda, oh merda Drifta, cazzo, levati Puzzola, sì, ok, switch No, non voglio chiamare il personaggio Perché poi mi impiantano, oh la la, oh la la Cazzo qua, su me la merda Oh via 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 Spara negro, spara cazzo Wow Così, sparo nel culo, pazzo Wow I porca vacca, porca vacca Double, double Oh merda E' una mancina su Testa di cazzo Cazzo Via Morti Di morti, ma va fan culo Ma porca vacca Magia Magia I think we lost Spiriente Ma come cazzo guido quello Ok Guido io, va che è meglio Porca miseria Sì Sì Buttiamo di Cosa Mite la Chi se ne frega Vabbè Missione finita Qua Quasi Vabbè 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 Cosa Vabbè Mi almighty I Quasi Mi chiede di santa qui, chi sono io? Penso Martin Madrazo. Buon ragazzo. Posso lui dare un po' di grado. Ma, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo è un ragazzo legittimo, che è stato accusato di guidare un gioco mexicano-americano e un ringo narcotico, ma i risultati stavano, perchè i luoghi sono arrivati, erano. Smart guy. Ora, Michele, ho una domanda per te. Cosa hai provato? Un'architettual, significante, modernista un'azienda per la montagna in Pinewood Hills? Pensavo che il cliente stava fai la mia mamma. C'era una casa strana per un gioco di tenni. Ah, ho pensato? Sì. 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 Natalia bisogna un hotel mentre ti finanziare la ricerca, non? Sì. 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 Oh, che ragazzi! Questo gameplay lo faccio finire alla fine di questo filmato, i prossimi li faccio un po' più lunghi e niente vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao a tutti da GeneticDNA. All right Doa, fuck me, shit. Grazie a tutti.